Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati sul mio canale e per chi fosse nuovo benvenuto Io sono Silvia e mi raccomando iscriviti sul mio canale per non perderti tutti i miei nuovi tutorial sul fai da te Il Natale è finalmente in arrivo e quindi oggi vi mostro come realizzare delle decorazioni natalizie dell'ultimo minuto Nonostante sia un progetto sul riciclo creativo, gli alberelli che realizzeremo sono talmente carini che possono essere utilizzati anche come chiudipacco per i vostri regali natalizi Come base per i nostri alberelli ci servirà del cartone e dei tappi di sughero Se non siete riusciti ad accumularne tanti, prendete un tappo e facendo molta attenzione con un coltello o un taglierino lo dividiamo in piccole sezioni Cercate di tagliarli tutti della stessa misura Ma in ogni caso non preoccupatevi perché i lavori fatti a mano sono bellissimi, nonostante non siano perfetti E ovviamente in questo passaggio se siete piccini fatevi aiutare da un adulto Adesso su un pezzo di cartone posizioniamo i cerchietti in sughero in modo da creare il nostro alberello Soddisfatti del nostro disegno, incolliamoli ad uno ad uno sul cartone Adesso su un pezzo di cartone Adesso su un pezzo di cartone Ora con le forbici ritagliamo il cartone in eccesso Per rendere più particolare il nostro alberello, sul retro io ho incollato della carta ondulata Anche questa riciclata da delle vecchie confezioni Voi se preferite potrete incollare dei cartoncini colorati oppure della gomma crepla con i brillantini Insomma vi potrete benissimo sbizzarrire Vado a ritagliare la carta ondulata in eccesso E adesso è arrivato il momento di sbizzarrirci con le decorazioni Per appendere l'alberello io ho scelto di utilizzare dello spago Quindi vado ad incollarlo sulla punta dell'alberello con la colla a caldo Voi se preferite potrete utilizzare dei nastrini colorati natalizi Incollo qualche rametto glitterato qua e là E qualche fiocco di neve che mi sono avanzati da dei lavoretti precedenti E per finire delle roselline in feltro Nell'info box vi lascio il link del mio tutorial precedente per guardare come ho realizzato queste roselline Soddisfatti delle varie decorazioni questo è il risultato finale Gli alberelli sono semplici, veloci e low cost da realizzare Ma allo stesso tempo sono super carini, natalizi e speciali Come avete visto per i miei progettini non c'è bisogno di utilizzare chissà quale materiale costoso e particolare Basta munirci di tanta fantasia e di tutto l'occorrente che abbiamo a disposizione in casa Spero che i miei alberelli vi siano piaciuti E mi raccomando lasciatemi tantissimi commentini e pollici in su per farmi sapere che cosa ne pensate Presto pubblicherò degli altri progetti natalizi per i lavoretti dell'ultimo minuto Perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sul mio canale per non perderveli Vi ricordo che vi aspetto anche su tanti altri social come Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest E trovate tutti i link nel box informazioni sotto questo video E ora io vi mando un super abbraccio Vi ringrazio per tutto il vostro sostegno al canale E un bacione e noi ci vediamo nel mio prossimo video Ciao! Ciao!